Buongiorno signori e signore, io sono il Duca di Baionette e mi occupo di scrittura creativa. Oggi vedremo una domanda di Rodney Yamaguchi, che nickname del cazzo, benissimo. Intanto credo sia un mio cliente pagante. Questa domanda però è arrivata, credo, prima che diventasse un cliente pagante, di novembre. Quattro mesi. Wow. Prima di rispondere. Prendo un sorso della bevanda suprematista bianca in quanto si chiama Monster Ultra White e c'è scritto anche Unleash the Ultra Beast, vuole scrivere Unleash the White Beast, ma evidentemente hanno avuto timore. Mmm! Sa del perineo di Himmler. Sa di fragole, in pratica. Allora. Ah, prima di tutto, ricordatevi sempre, iscrivetevi al canale, accendete la campanella, eccetera, eccetera, e mettete mi piace. Penso che da un punto di vista teorico lei abbia ragione, ma basti pensare quante persone possano storcere il naso a lettura di una terza presente. Nota. Basti pensare, e poi dice una cazzata. Basti pensare al fatto che il piombo galleggia nell'acqua. Basti pensare a quante persone possono storgere il naso di fronte a un fantasy con le spade. Ma perché dite cazzate come base della vostra domanda, signori? Ma non vi sentite stupidi? Cioè. Ma io ho fatto anche una lezione dedicata al fatto che creare la domanda, senza desti cazzate, include anche la risposta, perché nel momento in cui valuti con tutta la domanda capisci il senso della risposta. E ve l'ho fatta con anche tanto di link a un saggio universitario, a un... Einstein si deriva a questa cosa. Va bene. Proseguiamo con la domanda. Penso che oramai i lettori siano abituati ad una lettura al passato, alta stronzata, tanto una coglionata totale. Ma tu ci vai in libreria qualche volta? Mai li hai visti i libri pubblicati? Ma non ti sei accolto di quanti sono al presente? Anche questa cosa è trattata nel corso, eh. Terza, prima, presente, passato. Va bene. Però non aveva ancora fatto il corso, evidentemente. Quindi se la raccontava. Come fanno le persone inconsapevoli. E questo non vale solo nel confronto con la terza persona al presente, ma anche con la prima al presente, altra puttanata. Veramente. Ma gente che non ha mai letto un libro in vita sua. Ho letto soltanto una selezione ridottissima di libri, tutti fatti in terza al passato. Cioè, cos'hai letto? Soltanto fantasy? Se leggi gli urani è pieno di prima al presente, eh. Ve leggi un po' di classici urania. Tanto per cambiare. La quale può aggiungere un grado di immersione sicuramente migliore di tutte le altre, ma perde potenzialità di tutta la puttanata. Forse perché nell'immaginario colpo... Poi fa le dicele stronzate, senza aver neanche provato a verificare, poi fa l'ipotesi. Forse nell'immaginario, con l'immaginario collettivo, Jung e gli archetipi, dai, mettiamo anche questi. È ormai radicata l'idea che una storia non possa essere disgiunta dalla sua natura più intima, sia quella di racconto di un qualcosa già compiuto. Guarda che le persone non ragionano così, eh. Le persone leggono e basta. Questi sono i ragionamenti di quelli che, invece che leggere, si fanno i film in testa delle puttanate, si segano il cervello, si masturbano le scatola craniche, e poi sborrano stronzate. Natura più intia. Ma chi cazzo pensa a queste cose? Al di là che se una persona ha un mio riconoscenze tecniche, o è una persona che andrebbe presa frustate fino a esporre le ossa delle costole, dalla sua schiena, o sa che la natura più intima della narrativa è essere qui fottutamente nel presente del personaggio, perché nessuno sta raccontando nulla al passato, stai vivendo qui e ora. Perché il cervello visualizza qui e ora testa, signori. Ma avete mai letto un libro? Vi siete mai accorti che le immagini le vedete mentre le leggete? Ne siete accorti? No. Bravi. Sempre svegli, sempre sul pezzo. Non so se ci sono risposte certe a questa domanda, comunque la ringrazio nuovamente il confotto è solo. La risposta certa è che hai detto un mucchio di cazzate. Sai qual è la risposta certa? Non raccontarti cazzate. Fine. Hai detto una serie di balle. Senza senso. Da quelli hai fatto una domanda, senza ancora più senso, perché un lettore normale non se la fa, è un lettore educato, cioè che conosce le cose del mondo, sa che la risposta è l'esatto opposto. E quindi che cazzo stiamo parlando? Questo è un esempio di come non si fanno le domande. Neanche se vi inventate balle vi posso rispondere. Vi dico che sono balle. Tu mi fai la domanda e vi dice Caro Duca, so che dal punto di vista teorico una linea di fucilieri ha più volume di fuoco di una linea di persone con il culo di fuori con la trombetta. Non dice fin qui è giusto. Ma però, se penso al fatto che nell'intero Seicento le persone con il culo nudo, con la trombetta nel culo, hanno vinto regolarmente le battaglie, no? Incluso anche l'assedio di Breda, lo che era, ok? Come si può allora coniugare la superiorità di fuoco dei moschetti e degli archibugi con il buco del culo che vince? Non si può coniugare perché è falso, non vincevano esponendo il buco del culo. Ma che cazzo di domanda è? Basta. Ragionate, signori, smettete di dirvi puttanate. Qui la risposta era pure semplice. Uno, come funziona la mente umana? Lo sapete già. La mente umana visualizza, visualizza tramite stimoli, tant'è che non siamo in grado di distinguere la realtà dalla finzione in buona parte. Poi chi ha più immaginazione è ancora più abile nel farlo, chi ne ha meno di meno. Ne parlava un artista in un video dedicato alla fantasia, quindi all'incapacità di avere immagini mentali, e spiegava che molti artisti, se gli chiedi immagina una mela, loro vedono nella loro mente una mela vivida esattamente come una mela reale. Ti direbbero che la somiglianza è 10 su 10. Una persona normale tipicamente direbbe una somiglianza da 4, 5, 6, cioè è nella tua testa quel colore a quelle cose, ma non è così vivida. Tipo io se ci penso fosse un'immaginazione da 3, da 4, non lo so. Perché quando immagino, immagino la cosa, la vedo, ma c'è un grande sfondo nero, i colori non sono così vividi, devo concentrarmi un colore per volta. o su una grande immagine, sto pensando nel fa mezza nuda col costume e tutto, da da da, da uno dei costumi in Age 2, e perdo alcuni dettagli mentre ne vedo altri. Sono incredibilmente lontano da un 9, da un 10. Sono le limitante, era una cosa di cui parlava un artista che a sé si attribuisce un 5, eppure è un'ottima disegnatrice. Perché non è obbligatorio averlo. Come ci sono persone che non disegnano e che hanno questa grande capacità di visualizzare la propria mente. E al di là di questo, la mente semplicemente quando viene evocata una parola e la legge, chiama un'immagine. Quindi noi non pensiamo con le immagini, pensiamo con le parole, ma poi la parola fa arrivare all'immagine, che è una cosa importante. Poi ne parleremo, penso, in un video dedicato alla fantasia. Quindi a video delle immagini, ci devo pensare, ne voglio parlare con la ragazza che mi ha introdotto l'argomento. Per capire meglio anche il suo caso. Quindi, se sapessi come funziona la mente umana, e adesso che hai fatto il corso avanzato perché mi sembra di riconoscerti tra i corsisti, lo sai, sai che questa domanda è stupida. Sai anche che tutti i presupposti che aveva sono errati, che non c'è una minima attinenza col mondo reale in ciò che hai detto, e quindi di che stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla. Quindi perché ho voluto rispondere a questa domanda? Semplicemente perché dovete cominciare a capire, ragazzi, che fare la domanda include in sé la risposta. E che fa una domanda del cazzo, cioè partendo da quei supposti sbagliati, vuol dire che poi è inutile qualunque altra cosa. Nel fare questa domanda dovrebbe dire basti pensare quante persone ci pensi e dici ma quante sono? Beh, me lo sto inventando, quindi dici ah, diventa Duca di Baionette. Penso che da un punto di vista teorico lei abbia ragione, che vuol dire anche pratico, perché la teoria che porto viene alla pratica, quindi dovrebbe diventare. Duca di Baionette, lei ha ragione e io ho torto, perché lei mi ha esposto la realtà e io ho pensato la fantasia. Poi sarebbe basti pensare quante persone posso, diventa Non ho prove? Sto immaginando senza cognizione di causa che delle persone così quantificabili in nulla, perché non lo so, possano storciare il naso alla tua di una terza presente. E via così tutto quanto. Ma è così che si ragiona, fatevi delle domande sulle cose che dico. Accendete il cervello prima di fare le domande e quando fate le domande mantenetelo acceso e poi valutate la domanda che state facendo e pensateci. Criticate ciò che dite. Fate quel lavoro, minimo lavoro di maieutica, di dialogo socratico e fatelo da soli, non ci vuole un regno. Ok? Quindi, bene così, sono abbastanza depresso che mi avete mandato una domanda di questo tenore. Ci tenevo comunque a umiliarvi pubblicamente tutti, perché so che voi tutti avete pensieri di questo tipo. Vi ricordo che nei contenuti gratuiti del corso, le lezioni che arrivano via mail, sono state iscritte a me in English, peggio per voi, non mi ricordo dopo quante settimane, cioè dopo quanti mesi, arriva quella che parla proprio della questione delle domande di Wittgenstein con la citazione di quel paper universitario che mi è piaciuto molto. E niente, se vi iscrivete dopo, non so, 4-5 mesi, non mi ricordo più dove, vi arriva. Se invece comprate il corso, un corso avanzato, anche soltanto il singolo da 700 euro, o quello che è, qualunque offerta che prevede alle lezioni aggiuntive in omaggio, avete sbloccate tutte le 30 e pasta lezioni che vi arriverebbero nell'arco di 9 mesi. Io direi, visto il tenore dei contenuti, che sono in pratica un secondo corso base, che forse sarebbe anche meglio averle. Però, sono decisioni vostre. Adesso vorrei passare a fare una bella cosetta, riprendere la buona abitudine, cominciata ormai alcune settimane fa, di vedere con voi delle citazioni della Divina Commedia. Dovrei averne qui alcune. Eccole qua. Eccole qua. Allora, vi ricordo che io sono un fan della Divina Commedia fin dal tempo, diciamo, della terza media inizio liceo. Fondamentalmente per quella delle poche cose, tra virgolette, sì, fantasy, fantasy, che veniva presentata a scuola. Io l'ho già un appassionato di fantasy, avevo letto lo stile degli anelli in seconda media o in prima? Vuoto di memoria? Credo in prima, eri letto in secondo, ho letto in secondo, non ricordo più. Credo in prima. Sì? Credo in prima. Vabbè. Comunque, quello che era, non è importante. No, sì, l'ho letto in prima. E quindi ho un certo attaccamento alla Divina Commedia perché lì si potrebbero trovare alcune cose, eccetera, eccetera, stimoli, cose che piacciono, comunque quel tipo di cose che ha un adolescente, l'inferno, le altre puttanate possono piacere, e poi c'è un tizio che fa trombetta col culo, ragazzi, cioè quando c'hai 14 anni, 15 anni, 13 anni, il cazzo che è, voglio di fare trombetta col culo e te lo dice Dante, ma che cazzo vuoi di più? Comunque, volevo citare un pezzo da Divina Commedia, un brano, viene da, non vi dico a dove viene, e tanto sapete individuarlo voi, ed è questo. Già mi trema la pelle, proprio pelle d'oca, i peli che si rizzano. Sono io l'uomo di casa, bro, questa cosa mi gasa, faccio una canna che è una pianta grassa, tu, se mi cerchi, prova a chiamare la NASA, ià. Proprio, mamma mia, proprio, l'indecasino, è tutto, sento veramente proprio la forza di Dante, la sua rilevanza nel contesto della poesia dell'inizio del Trecento, veramente proprio, sento tanto, cioè si sente la superiorità di Dante rispetto a Guido Cavalcanti, cosa veramente pesante, parlando di Dante e Guido Cavalcanti voglio consigliare, non per la scrittura perché voi sapete che vi consiglio di usare soltanto testi che sono scritti perfettamente, non testi che sono semplicemente molto meglio della media in libreria, in questo caso un testo scritto molto bene se ragioniamo con gli standard di libreria non va benissimo se ragioniamo con gli standard per imparare con il mio corso di scrittura, vi consiglio la serie Eternal World di Livio Gambarini che è un mio corsista, corsista formato da me, e Livio Gambarini ha fatto questa serie molto bella dove ci mostra fondamentalmente il dietro le quinte fantastico del funzionamento anche della nostra realtà volendo parlando delle vicende dell'epoca di Dante Alighieri e Guido Cavalcanti e di come si è arrivati a concepire la Divina Commedia. Le sue spiegazioni fantastiche sulle lezioni di Clementino V, oddio, non mi viene in mente il nome, quello del rifiuto, e altre vicende storiche sono molto più credibili con l'interpretazione fantastica di quanto appaiono strane e vagamente assurde con la ricostruzione storica dove mancano un sacco di elementi per capire certe decisioni personali dove si ipotizzano cose. E quindi io ve lo consiglio caldamente ed è anche un bel tipo di fantasy, fantasy che piace a me, quelle pochi elementi fantastici che a cascata portano altri elementi conseguenti da una semplice scelta di design e che ti spiegano qualcosa della realtà che altrimenti non esisterebbe. Quindi non è un fantasy vuoto sommato a fare estetica è un fantasy che spiega il reale in modo piacevole cioè dici cazzo noi veramente potremmo vivere in un mondo in cui ci sono gli ispiti delle famiglie che giustificano perché mio cugino all'improvviso è diventato un alcoolizzato che cazzo ne so o lui ha lasciato il lavoro improvvisamente cioè ti vanno a spiegare quella roba lì e quando pensi in quella roba dici cazzo ma allora quando io ho una voce in testa e prendo certe decisioni non è che sarà il mio pater familias che mi sta parlando e ti caghi in mano perché quando entri nell'ottica di pensare che la roba di Livio potrebbe essere vera è quando descrivi amore e cosa fa guarda che ti spaventi se cominci a pensare a cosa fanno le persone nella vita va bene di ecco ho fatto abbastanza pubblicità a Livio anche per oggi quindi bene così e alla prossima